Loredana Leciso, rubata l'identità, Romina ha sbagliato, le ultime su Albano Domenica live, l'ex naufraga ha fatto chiarezza sull'attuale rapporto con il cantante Cancelletto Loredana Leciso è tornata a parlare della vicenda della Fak News condivisa da Romina Power sul suo profilo Instagram. A far infuriare l'ex naufraga un post sulla presunta gravidanza di Christel Carrisi Quel post non l'avrei pubblicato, non è stata fatta una bella azione nei miei confronti e mi sono dovuta tutelare La compagna dell'artista di Cellino San Marco ha confermato a Domenica live di essere pronta ad agire legalmente nei confronti dell'americana. In questa vicenda è stata molto superficiale e questa cosa mi ha fatto stare molto male La Leccese ha spiegato che è stato cancelletto Albano Carrisi a segnalare che le era stata rubata l'identità sui social Lui non ha creduto neanche un momento a quello che c'era scritto ed io ho dovuto tutelarmi perché mi era stata sottratta l'identità con una denuncia nei confronti di ignoti Loredana Leciso ha definito la power superficiale nella circostanza e che avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione la veridicità di quel post Ripeto io non l'avrei fatto e la cosa mi ha fatto molto fastidio Voglio bene ad Albano ma amo me stessa In questi giorni la 45enne è impegnata a Lecce nelle prove di una rappresentazione teatrale, sarà Maria Maddalena. L'ex naufraga ha riferito che vuole bene ad Albano ma che in questo momento ama soprattutto se stessa Parole che hanno fatto intendere che non c'è stato nessun riavvicinamento al cantante pugliese. A Cellino sono tornato, con lui condividiamo i nostri figli Loredana Leciso ha spiegato di aver lasciato Pavia dove aveva trascorso le vacanze natalizie con i familiari ma soprattutto aveva deciso di concedersi una pausa di riflessioni dopo le indiscrezioni relative ad un ritorno di fiamma tra Cancelletto Romina Power e Albano Può darsi che lei abbia avuto un ripensamento e se è così mi dispiace ma non si torna indietro La stoccata sul colore del vestito per la tournée Il musicista ora è impegnato nella tournée in Germania con l'ex moglie e stuzzicata sull'argomento la Salentina ha piazzato una stoccata nei confronti di Romina. Gli consiglio di indossare il nero perché fa perdere due taglie Per evitare nuove polemiche la Leciso ha precisato che il nero è un colore che le piace. Per un concerto in Germania andrebbe bene anche un vestito colore pastello Per restare aggiornati sulle news di tv e gossip cliccare sulla firma dell'autore dell'articolo e digitare Segui